Lanza in battuta, ace, perché va a colpire a Buva. La pipe di Lanza, chiodando la palla, che attacco Filippo Lanza, 24-20. Le sezioni già morano anche in tuffo, poi Lanza non chiude, e sì invece perché pasticcia ancora vivo. Spera e Monza con l'aiuto del nastro, i Re del Volley guardano giù e dicono sì, Filippo tocca a sé. La pipe di Lanza che fulmina, dirgli chi ne è posto uno.